Non ci sarà alcun ingresso del ministro degli esteri uscente Luigi Di Maio, leader di impegno civico nell'aggiunta regionale campana. Smentite le indiscrezioni che lo vedevano con Sandra Leonardo Mastello e Rasetta D'Amelio come possibili nuovi assessori regionali. Un chiarimento dello staff che parla di falsità. Intanto proseguono le analisi post voto, in Irpini Assemblea dei Democrat ad Avellino il segretario Nello Pizza richiama la necessità di aprire al campo largo. È necessario perché il Partito Democratico da solo evidentemente non può immaginare di candidarsi ad essere forza di governo e amministrare le realtà. Bisogna necessariamente confrontarsi e individuare un percorso comune con quelle forze che già per esempio la provincia hanno dimostrato di godere del sostegno dell'elettorato. A Benevento prima uscita di Domenico Matera, neosenatore eletto tra le fila di Fratelli d'Italia, a riformare il partito che parte da basi solite e la strategia di Matera che ribadisce il risultato. Possiamo dire che Fratelli d'Italia, il partito leader del centro-destra, si farà carico di portare avanti anche chi sta un po' più indietro, gli altri partiti, perché devono avere tutti pari dignità. Oggi noi beneficiamo e godiamo di un grande risultato, soprattutto grazie a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni può vantare di aver eletto due parlamentari in provincia di Benevento, il senatore Matera e l'onorevole di Forza Italia, che è stato eletto grazie alla percentuale dei voti di Fratelli d'Italia. Lo farò di tutto perché questo avvenga, non c'è bisogno di primatore o di prime donne, tutti sullo stesso livello, alla pari.